Una Peugeot 508 tutta nuova da cima a fondo con 365 Panda Pandino in Lombardia per un nuovo record FCA al fianco del corpo dei carabinieri con una Jeep Wrangler speciale. Peugeot 508 si rinnova da cima a fondo e lancia la sfida alle berline tedesche presentata al Salone di Ginevra. La nuova ammiraglia della casa francese arriverà sul mercato italiano il prossimo ottobre. Frontale con tanta personalità, linee fluide e slanciate, questo l'identikit esterno della nuova 508. Lo spazio all'interno non manca nemmeno nel bagagliaio, gli interni sono curati all'insegna dell'iTech. Peccato però per la posizione del volante che va a coprire anche se leggermente l'iCockpit. Disponibile in quattro versioni, l'aggiunta alla First Edition, la tiratura limitata, sotto al cofano monta motori Euro 6 PureTech Turbo Benzina 1.6 da 180 a 225 CV e Turbo Diesel Blue HD 1.5 da 130 CV oppure il 2 litri da 160 o 180 CV di potenza. La versione Wagon debutterà al prossimo Salone di Parigi, mentre nel 2019 è attesa una versione ibrida plug-in. Sulla nuova 508 è disponibile anche il sistema di assistenza alla guida Night Vision in grado di rilevare fino a 250 metri la presenza di persone, animali e oggetti sulla carreggiata. Il sistema di navigazione più social al mondo si unisce a Panda per dare vita a Panda Waze, un'auto che nasce con l'obiettivo di rendere accessibili a tutti le soluzioni più intelligenti che semplificano e migliorano la vita a bordo di un'auto. Si tratta della prima vettura del suo segmento a proporre l'interazione con Waze, un connubio che permette al guidatore di concentrarsi unicamente sulla guida. Panda Waze è la vettura ideale per fuggire dalla routine quotidiana e vivere avventure urbane, condividendo fotografie, consigli di viaggio ed esperienze di guida. Due grandi community che si incontrano, quella dell'iconica auto di Fiat che dal 1980 ad oggi ha toccato 7 milioni e mezzo di esemplari prodotti e gli utenti della piattaforma di navigazione per auto. Per utilizzarlo basterà riporre il telefono nell'apposito supporto installato sulla plancia e iniziare il viaggio. Con Waze si possono evitare ingorghi, incidenti, autovelox e l'applicazione inoltre in grado di consigliare sempre il percorso più veloce. Basandosi sui dati forniti in tempo reale da oltre 100 milioni di persone, Panda Waze si caratterizza per un look cross con alcuni dettagli in nero come le modanature laterali e le calotte degli specchietti. Grazie ad imperdibili 100, la gamma Panda parte da 7400 euro. Con la consiglia di una speciale Jeep Wrangler con la libera dell'arma dei carabinieri si rafforza ancora di più il connubio fra gli uomini dell'arma e il gruppo FCA. La vettura avrà il compito di presidiare la riviera Romagnola e sarà impiegata nel tratto di oltre 30 km di spiaggia, compreso fra Cattolica e Bellaria. È equipaggiata con un motore 2008 turbodiesel CRD con cambio automatico e caratterizzata dal Mopar One Pack, la personalizzazione che permette di affrontare in tutta sicurezza ogni percorso fuoristrada. Nel caso dell'esemplare consegnato ai carabinieri il kit comprende assetto rialzato da 2 pollici by Fox Performance, amnotizzatore di sterzo anteriore, cerchi lega neri da 17 pollici, pneumatici all-terrain maggiorati da 32 pollici, para spruzzi anteriori e posteriori e codini laterali per i parafanghi.